Un esposto all'autorità nazionale anticorruzione per far luce sugli incarichi legali affidati dall'ASL di Pescara ad avvocati esterni, a firmarlo è stato il vicepresidente del consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che in seguito ad un accesso agli atti ha potuto riscontrare che nel periodo che intercorre dal 2018 al settembre 2021 l'ASL di Pescara ha affidato la maggior parte delle pratiche legali a un numero ristretto di avvocati, pratica che potrebbe configurarsi quale rapporto consolidato e duraturo instaurato con parti di essi a dispetto di quanto prevedono le linee guida vigenti. A spiegare nel dettaglio quanto emerso dalla lettura delle carte quali sono i dubbi sulla correttezza delle assegnazioni è stato lo stesso consigliere regionale nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina presso il palazzo del consiglio regionale a Pescara. Ho presentato un esposto all'ANA che per far chiarezza su alcuni affidamenti di incarichi legali dati dall'ASL ad avvocati esterni. Ebbene il focus è stato fatto al 2018 al 2021 ho scoperto che l'ASL ha affidato all'esterno 338 pratiche legali. Di queste 338 ben 140 sono stati affidati a soli tre avvocati, ulteriori 107 ad altri 8 avvocati e poi ho scoperto che nell'albo precostituito dall'azienda del 2016 501 avvocati non hanno preso nemmeno una pratica e nell'albo aggiornato del 2020 339 avvocati anch'essi non hanno preso nemmeno una pratica. Allora siccome le linee guida dell'ANAC parlano di rispettare i criteri di equa ripartizione delle pratiche tra tutti gli avvocati e di rotazione tra le pratiche. Io chiedo con forza appunto anche al presidente di regione, all'assessore regionale, alla sanità di sensibilizzare l'azienda che comunque è un ufficio legale interno con avvocati assunti a far ricorso all'esterno solo in casi eccezionali, ma comunque quando si fa il ricorso all'esterno io chiedo di far ruotare, fare una equa ripartizione affinché tutti possano lavorare come ci dicono appunto le linee guida dell'ANAC. L'ANAC chiedo di far chiarezza, di capire. Questo è una pratica sicuramente per rispettare principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di trasparenza, di efficacia e di efficienza e quindi credo che sia una grande battaglia di legalità e di civiltà.